Gentili telespettatori, buona giornata, disgelo tra Italia e Francia. Ci sarà adesso un vertice per parlare di migrazioni. Eh sì, intanto la visita da Crosetto del suo collega francese, Le Cornu, e Meloni sabato vola in Libia. L'aereo va in Libia perché va a cercare di fare quel famoso blocco navale con un altro nome, come vi ho sempre detto, accordi tra paese di partenza e paese di arrivo per fermare l'immigrazione clandestina facendo degli accordi economico-commerciali. Insomma, il blocco navale, mettersi d'accordo con la Libia. Lei va lì ufficialmente per parlare di energia, ma di energia già fatto con l'Algeria. Il Libia va lì per parlare di immigrazioni, ma probabilmente cercherà un accordo con la Libia, un accordo imponente dove si cercherà pagando, per convincere la Libia, a impedire le partenze di tutti i tipi, ONG, scafisti, tutte quelle cose qua. Ecco, naturalmente ci devi andare con ding ding, con i soldini, perché per convincere in alcuni casi come questo devi andare ad offrire di più di quello che offrono i trafficanti a chi governa. Capisci a me? Così, intanto va Crosetto, in Francia, a parlare con il suo omologo Le Cornu, si chiama così, e va a parlare di che cosa? Di tante cose, ma soprattutto di migranti. Di migranti e cercare una sponda a vedere se la Francia con l'Italia vuole fare una sorta di blocco navale magari insieme, visto che la Libia e il Nordafrica è anche negli interessi della Francia. Poi, voi sapete che alla Francia piace sentirsi importanti, no? Sapete, si è sempre parlato della grandeur francese, a loro piace sentirsi importanti, diciamo così, e allora se li si invita a fare un blocco navale con le loro navi da battaglia, così, anche se poi non è che servano più che altro, servono solo per cercare di intercettare chi arriva, che è sfuggito ai controlli della Libia e farli tornare indietro. Però alla Francia piace, magari questo invito dell'Italia, facciamo insieme il blocco navale, loro si sentono importanti e ci stanno, non lo so. Però Crosetto va lì, la Meloni va lì, certo non è per sensibilizzare l'Europa, perché ormai l'Europa, abbiamo capito, che per quanto riguarda le immigrazioni, zero. Pertanto non è che vanno lì a parlare con Macron per fare chissà che cosa. Vanno lì a capire se Macron in qualche modo è interessato, visto che anche loro hanno aziende, accordi in Libia, se anche loro magari sono interessati a fare insieme con qualche nave, così da dividersi un po' i costi e loro sentirsi importanti, fare una sorta di blocco navale insieme, ovviamente in accordo con la Libia, perché i blocchi navali si fanno in accordo con l'altro paese, da dove si parte, ma non è mai una cosa a senso unico, se no diventa pirateria, questo lo sapete, no? Pertanto dopo l'incontro tra Crosetto e Lecornu, l'omologo francese, Sébastien Lecornu, dopo andrà anche la Meloni a parlare con Emmanuel, perché dico Emmanuel? Perché c'ha due M, non è Emmanuel, è Emmanuel con due M, Emmanuel Macron, si dice così, vero? Voi cari italiani che vivete in Francia, com'è che si pronuncia? Emmanuel Macron? Macron? Si dice così? Non lo so. Comunque, intanto si parlerà poi degli aiuti internazionali, la crisi internazionale, voi cosa mandate, io mando questo, tu mandi quello, ah sì dai, ecco, e poi, quindi una collaborazione Italia-Francia in area come la difesa, l'aereo spazio, e poi si vedranno Meloni e Macron parlando appunto di integrazione fra i due paesi come vorrebbe la Meloni, ecco, la Meloni cosa ha fatto? Furbamente ha fatto strillare Macron perché gli ha mandato una nave ONG come Macron, aveva detto mandamela, perché Macron c'era cascato con tutte le scarpe, no? La Meloni gli ha detto, dai Emmanuel, eh, prenditi sta nave, una cosa vuoi che sia, e quello ha detto, eh, va bene, dai. Poi gli è arrivata la nave, ha cominciato a strillare in Europa, l'Europa ha detto, ma chi è che strilla? È Macron che strilla, ma cosa succede? Facciamo una riunione sui migranti, e poi non è successo niente. Quindi la Meloni ha provato a far gridare la Francia, ma non è successo niente, quindi abbiamo detto, vabbè, abbiamo capito che l'Europa, zero sui migranti, adesso cercheremo di ritornare amici con la Francia, visto che l'abbiamo fatto gridare questo qua, torniamo a fare gli amici, tanto alla fine sono i vicini di casa, che dobbiamo fare? Visto il mondo come è brutto, è meglio tenersi buoni vicini di casa, perché in caso di problemi internazionali, almeno tra vicini, ci si dà una mano, capisce a me, visto quello che si sta parlando in questi giorni, mi sta cominciando a far preoccupare un po', perché e manda questo, e manda quello, e manda quell'altro, alla fine, ecco, alla fine, non diciamo, comunque, meglio tenersi buoni anche gli amici, sai, una mano lava l'altra, e tutte e due si possono aiutare, non era proprio così il proverbio, ma va bene lo stesso. Pertanto, l'obiettivo della Meloni è recuperare i rapporti con la Francia, cercare magari di far collaborare la Francia nei piani per fermare le partenze, anche perché è uno dei paesi vicini, uno dei paesi che ha problemi, anche loro, con le migrazioni clandestine, e pertanto la Meloni può offrire un aiuto reciproco per fermare migrazioni che arrivino da tutte le parti, dalla Tunisia, dal Marocco, dall'Egitto, dalla Libia, quindi magari, avendo anche la forza economica francese, assieme a quella italiana, assieme per riuscire a fare questi accordi, chiamiamoli con i paesi di partenza, perché blocco navale non piace a nessuno, accordi con i paesi di partenza, perché ormai alla Meloni è rimasta solo questa carta da giocare, se anche la carta del famoso blocco navale non andrà a concretizzarsi, mettiamoci una pietra sopra, apriamo i porti a prescindere, e pensiamo al Natale prossimo, perché tanto è finita, è finita, se un governo di destra non riesce a fare niente per l'immigrazione clandestina, mettiamoci una pietra sopra. Arrivederci a tutti, e grazie.